E la più grande indagine è contro chi percepisce il reddito di cittadinanza senza in realtà averne in requisiti e in questo caso c'è anche di più perché fra le 127 persone che avrebbero dichiarato meno di quanto possedevano per ottenere oltre un milione di euro di sussidi ci sarebbero anche dei condannati fedelissimi a Matteo Messina Denaro o comunque mafiosi affiliati fra chi comanda nella provincia di Trapani. La Guardia di Finanza come si legge su Repubblica Palermo ha beccato cinque nomi eccellenti uno di questi è quello di Salvatore Angelo ritenuto il signore dell'eolico per conto del super boss Matteo Messina Denaro arrestato nel 2012 e condannato definitivamente a otto anni per associazione mafiosa. Poi c'è l'imprenditore di Levito Russo taglieggiatore per i marsalesi che avrebbe percepito indebitamente circa 7 mila euro dallo Stato mettendo nella dichiarazione per il sussidio la condanna per associazione mafiosa. Ma ci sono anche altri condannati Francesco Lupino Matteo Tumbarello e Maurizio Arimondi in questo caso sono state le mogli a richiedere la card e ovviamente non hanno fatto riferimento alle condanne dei mariti. Duplice omicidio per il primo persunto boss di Mazzara del Vallo il secondo fiancheggiatore di Messina Denaro il terzo. Poi c'è anche chi ha preso il sussidio nonostante avesse vinto e molto col gioco online. Due in particolare uno di Trapani e l'altro di Castelvetrano non avrebbero dichiarato consistenti vincite per 546 mila euro e 108 mila euro. Somme di gran lunga superiori al limite fissato dalla legge che è di 12 mila euro. Altre 13 persone a Marsala, Alcamo, Mazzara del Vallo pur di ottenere il beneficio economico hanno dichiarato di essere senza lavoro e non era vero. E' scamotaggio di tutti i tipi per un'operazione che vuole stanare chi crea disagio. A chi della card ne ha davvero bisogno.